A quanto pare quella che sembrava la telenovela dell'estate si risolverà prima di quanto molti temessero. Il 21enne talento del Santos Neymar lascerà il Brasile in direzione Europa, ma la destinazione resta ancora un mistero. La stella del pesce aveva più volte giurato di voler rimanere per prepararsi meglio al mondiale di casa, ma la società paulista ha fatto sapere di aver accettato due offerte arrivate dal vecchio continente. Il tweet rilasciato dalla società recita il consiglio di amministrazione del club ha deciso di negoziare la vendita del giocatore. Neymar e il padre dovrebbero arrivare a breve al Villa Belmiro per scegliere quale offerta accettare. In pole positions per aggiudicarsi uno dei talenti più cristallino del calcio moderno sarebbero le due superpotenze del calcio spagnolo, Real Madrid e Barcellona. Il prezzo del giovane verde oro dopo le buone prestazioni in campionato sarà alto, ma non dal record. Le squadre interessate dovranno tirar fuori almeno 30 milioni di euro solo per la clausa recissoria. Si mormora che dietro le quinte anche PSG e Monaco si stiano muovendo, ma in fondo starà Neymar decidere dove accasarsi. Grazie.